Una macchia indelebile per la città secondo molti, ma per tanti altri, soprattutto i più giovani, l'occasione per voltare definitivamente pagina. Giudizi contrastanti tra gli abitanti di Monte Sant'Angelo dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose disposto dal Consiglio dei Ministri durante l'ultima riunione. Un venerdì 17 da incubo per scaramantici e non. Il prefetto di Foggia ha revocato tutti gli organi comunali. La gestione amministrativa è stata affidata a tre commissari straordinari che resteranno in carica dai 12 ai 24 mesi. Nei prossimi giorni si conosceranno le motivazioni alla base dello scioglimento. In città non manca chi teme che il provvedimento possa danneggiare il settore turistico, soprattutto quello religioso legato al culto per San Michele, che ha portato nel 2011 Monte Sant'Angelo ad essere inserita nel patrimonio dell'UNESCO. Hanno distrutto un paese. Noi eravamo la capitale del Gargazio. Eravamo. Di certo non va a vandaggio di questo meraviglioso paese in cui credo ho aperto questa attività 17 anni fa. Io spero che la gente capisca effettivamente che il culto di San Michele Arcangelo e altri monumenti possono effettivamente portare avanti il turismo sul Monte Sant'Angelo. I più ottimisti però sono i giovani. Credo sia anche un ottimo punto di partenza se vediamo la faccia bella della medaglia, se così si può dire, se così si può definire. Perché forse è un momento in cui i montanari, finalmente noi montanari, finalmente ci possiamo riscattare e dire da che parte stiamo. È una pagina negativa, però allo stesso tempo anche noi giovani vogliamo vedere in questo una sorta di speranza che venga fatta chiarezza su tutta la vicenda e che quindi si possa ripartire in maniera positiva.